Spero di rispondere con maggior stile e con maggior classe rispetto alle persone che mi hanno preceduto. Spero il motivo per cui faccio questo intervento. Io non chiedo di evitare il motivo perché sono state chiamate in causa i miei familiari, non io personalmente. Questa mi sembra un po' che l'ho arrivata a scuola, che è la madre di un compagno, perché non si doveva offrire la persona in prima persona. È stata chiamata in causa la mia famiglia, io ovviamente dico, se a Casoria siamo una famiglia abbastanza conosciuta, sapete tutto quello che è stato fatto dai miei predecessori, da mio padre, da mio fratello, che prima di me ci sono succeduti in questo consiglio mondiale. Per quanto riguarda le loro azioni, andate a chiedere ai gretti di terra. Io non ho bisogno di dovervi difendere. Storicamente conosco quello che abbiamo fatto, conosco i loro predici e le loro crisi. E non sono certamente io, che sono una persona di parte, per vederli, perché è la mia famiglia, a dover di difendere. Saranno loro, ed è una carezza di stile quando si attaccano le persone attraverso i familiari, per vederli questa precisazione. Però su alcuni punti vorrei scelere. Sidero ha parlato dell'Astidero, è un'altra occasione sciupata, buttata, cittata di ordine. L'Astidero è una proprietà del comune, una fabbrica che si trova nei prezzi di via nazionale delle publie, è lasciata una fatura da questa ministrazione. Per più di utilizzarla, di tentare, di recuperare risorse, per poter migliorare dei progetti che c'erano, un progetto polimunzionale, una struttura polimunzionale, restituita ai cittadini, la si lasciano sì. Questo lo sapete perché? Perché il progetto non faceva parte degli anni di questa ministrazione. Perché è un progetto antico, un progetto di quale si è detto tanto. Inziate a guardare bene quali erano i progetti di quale erano i progetti di quale erano i progetti di attività e di attività. Questo ha visto il problema, che il progetto non ce l'ha proprio, basta andare contro il progetto di corruzione. Questo è il senso. Quindi per questo è parlato di Sidero. Sidero, se il progetto come dovremmo utilizzare questa, questa struttura, sperando che la spieghi, voglio reprimare prima altruissimamente a quello che ha detto il SIDAO. Il SIDAO si vuole come baguardo di legalità. Il SIDAO è stato il primo a violare le leggi di questo Stato. È stato il primo a violare le leggi che volevano il rispetto di una postura concorduale della situazione esistente. E questo è quello che dico, non io che non sono l'organo incidente, ma è quello che dice il Correggio delle pensioni dei costi, che è un organo terzo. Che tu non hai dispensato la legge, la legge sull'estattualità, vivamente, prende in considerazione. Ecco il valo atto della legalità. Quando gli amici della stanza dicono qua, gli amici e gli amici. E' la verità, qua dentro mi scelgono su Stato, un detestore, un detestore vicino ai politici. E basta. E poi questo non ci fa più bene. Questo non ci fa più bene. Il primo sono i consiglieri di tratti. Consigliere di tratti. Consigliere di tratti. Consigliere di tratti. Dimostratelo. Questo ve lo ha qui il dito. Il consigliere di tratti. E' la donna. A sì consigliere di tratti. Il consiglio del seguito. Il consiglio del seguito è un intervisto per un terzo lato dell'esempio. Vede, il consiglio è quello che potete dire, è quello che potete dire, è quello che potete dire. Il consiglio è quello che potete dire, ma per me c'è che mi ricordo. Per me c'è che mi ricordo. E poi criticare quello che potete. Per me c'è che mi ricordo. Quando io non mi sono mai permesso di andare in nessuna partecipante, nessun ente di questo concreto come consigliere Pianto Cavaluzzo a parte, perché non mi amano la politica come consigliere di amministrazione dedicatoria a me, io non ho mai tenuto in nessun ente retribuito perché mi ha dominato la politica, spero di poter vedere con l'amministrazione corpente, perché io non ho mai tenuto da nessun'altra parte retribuito perché mi ha dominato la politica, questo si è già, questo si è già, 8% di infatti, so mi ha bisogno di divulgare, la mia politica, la mia politica, la mia politica, io sono i miei politici, sono parte del fondo del inviario, E quindi, come te, fatevi a tutte le tue, allora, prego di leggerli, e mi arreggio una situazione che non è complicata. E invece, scusate se mi obbligiano, voglio procedere subito. Dichiarando, innanzitutto, il sindaco, dichiarando di aver seguito tutte quante le vizie, se ne è altamente fischiato quando hanno dovuto nominare i dirigenti, se ne è allontano per l'iradio di quest'oggi. Vorrei scendere un attimo, consigliere, davvero un po' di confusso, un po' di sicurezza. E' utilissimo il po' di sicurezza, signori. E' un progetto di video sordegnato che dovrebbe, quantomeno, di sguadere la differenza, venga uscita dalla posizione di cari di micro-generalità. Per vedere, ma quando il consigliere portate, si viene a sapere che un dirigente, competente per materia, si chiede sul suo dato, con una lettera, con la quale un'organizzazione oltre al comune, se ne è oltre competente, non lo fa e che c'era dentro il suo progetto. Arriva quest'unica lettera, quest'unico preventivo, presentato un dirigente competente, nella stessa data in cui c'era la lettera, a fila di carico a questa persona. Senza pubblicizzarlo, senza dire che a Cazzonia c'era la necessità di trovare professionisti in grado di dirigere quel progetto. E si va a scoprire anche che quel professionista non si è mai occupato dei progetti di sicurezza, ha sempre recato progetti del conto salvo. Per vedere, non consigliere comunale, si faccia delle domande, si accendono la lampadina e chiedono la commissione trasparente, non di indagare, ma di accertare che cosa è successo. E quando il sindaco viene a dire, in amore della commissione trasparente, devono essere sospetti, perché si stanno facendo delle inquisizioni. Io non sono un OCA in grado, sono un consigliere comunale, votato dai cittadini, poi 700 e 300, quanti mi siano? Quelli che sono i coni compreso, spero che ho trovato la gente di doppia giusta o me la dite sempre. Io quando finisco di fare il consigliere comunale, ho un lavoro, vado a fare il mio lavoro, se non sono andato a fare il consigliere comunale. Questo sia già, questo sia già, non ho bisogno di certo del consiglio comunale. Non posso procedere, ancora, io vi ho aspettato dal sindaco, non che mi inizia a fare la riprendita di tutte le cose che non è stato consente fare, e quindi le precedenti amministrazioni dei 30, 40 anni fa. Io volevo sapere, che cosa intendi fare, come intendi fare, se non hai la maggioranza, come intendi portare avanti questo progetto? Come intendi, sono delle attività, quello che sta chiedendo anche il PD, qual è il percorso da intraprendere? Perché da 8 mesi a questa parte il percorso intraprendere non ha portato tutti, non ha portato niente. Allora, dobbiamo andare avanti così, dobbiamo arrivare così, ovunale, e fare la punta ogni volta. Perché c'è la possibilità di fare qualche consigliere o consigliere, porra verso la maggioranza. Non sarà sempre il consigliere Polizio, porra verso la maggioranza. Il consigliere Polizio ha più volte detto quali erano i progetti e quali erano le metodologie con le quali agire. non siamo stati ascoltati, non siamo stati presi in considerazione, così come adesso non è preso in considerazione, quindi queste sono le forze della maggioranza e queste sono le metodologie con cui sta andando avanti. E' altro che non so, e' altro che non c'è, quindi allora consigliere Polizio. Grazie.